Tante uova di cioccolato con sorpresa ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale Monsignor di Miccoli di Barletta. A consegnarli è stato Bing in persona il noto cartone animato che piace tanto ai bambini, insieme ai volontari dell'associazione Vicini al Cittadino. Donare è una cosa bellissima, soprattutto ai bambini, perché portiamo una piccola felicità, non è che cambiamo chissà cosa, per obbedire quel sorriso, una gioia, quegli occhi, è impagabile. Alla consegna erano presenti medici e infermieri. Un piccolo gesto all'insegna della solidarietà per aiutare i bambini a vivere meglio l'esperienza della malattia e per rendere più confortevole la permanenza dei piccoli degenti in ospedale durante le festività pasquali. I piccoli hanno abbracciato Bing ed hanno giocato tra loro. Bing ha coccolato i bambini ed ha augurato loro una buona Pasqua. Adesso resta solo attendere di scartare le uova per mangiarle assieme e sporcarsi le mani con la cioccolata. Sono delle donazioni piacevoli, anche se un bambino non sta bene, non è in buona salute. È una Pasqua un po' particolare, ma mi auguro che passi presto questo periodo per tutti. Un bacio a tutti i bimbi che non stanno bene.